Nel primo fine settimana di Isola Pedonale estiva, dalla mattina fino alla sera, i social si sono riempiti di foto fatte da commercianti infuriati che non accettano la decisione del Comune di rendere il centro pedonale. Pochissima gente in giro, dicono complice sicuramente la voglia di mare vacanze, ma per molti esercenti aquilani l'isola ha penalizzato le loro attività nel primo giorno di saldi. La piazza era deserta, non si sono fatti affari. Se i commercianti di Via Garibaldi già avevano detto la loro rete 8 contro il provvedimento, il fronte del Nossi allarga e protesta anche al Consiglio Comunale. I commercianti della piazza e non solo, più volte hanno scritto al Comune per chiedere un'interlocuzione che non c'è mai stata. Non è l'idea di Isola Pedonale insieme ad essere respinta, ma il fatto che questo non sia accompagnato dalla presenza di servizi e parcheggi, con il terminal che loro hanno filmato e che non rappresenta ad oggi la soluzione, sostengono, anche per le condizioni in cui versa. L'Aquila insomma non è pronta per loro e non è mai stata regolamentata, aggiungono, la questione con i mezzi della ricostruzione. Purtroppo abbiamo avuto un forte calo di presenza, soprattutto dei nostri clienti fissi, in quanto purtroppo ci siamo ritrovati in un'isola pedonale mal gestita e non avendo dei servizi essenziali, come il funzionamento del megaparcheggio di Tapirulan e anche in parte delle navette. E quindi i nostri clienti abituali si sono trovati in forti difficoltà a raggiungere la piazza Duomo, ma era ben visibile a tutti quanti che era una piazza deserta e si è vista qualche persona soltanto nel tardo pomeriggio. Noi siamo favorevoli all'isola pedonale e che le famiglie vivano a pieno la propria città, ma purtroppo per far sì che sia questo bisogna attuare tutti i servizi necessari e tutti i parcheggi, che tanto la nostra amministrazione decanda, ma che oggi purtroppo non sono funzionanti. Il malcontento è generale, non è solo per una sola categoria. Questo che cosa significa? Fa capire che purtroppo ad oggi una situazione che giovi a tutti non si può trovare. Facciamo qualcosa che ci porti ad arrivare a questo, ad una situazione ideale per tutti. Al momento non si può fare. Noi dall'inizio abbiamo chiesto, cerchiamo di trovare dei modi, come per esempio l'utilizzo delle strisce blu a pagamento, insomma un disco orario, in modo da poter creare dinamicità tra una persona che va e l'altra che viene e questo ci permetterà di poter lavorare nelle ore di urne senza poi andare diciamo ad intaccare nel lavoro successivo di altre categorie. È un punto di incontro che però purtroppo non hanno assecondato fino ad ora. La questione è complessa, ma il comune tira dritto. Ci sono anche favorevoli all'isola ovviamente, ma la città con questa problematica si sta mostrando molto spaccata. I commercianti contrari non sono intenzionati a cedere.